Tante arance in casa? Facile! Prepariamo una torta con crema d'arancia. 3 uova, 150 g di zucchero, 150 g di olio, una tazzina di latte, 250 g di farina, una bustina di lievito, un'arancia. Questi, gli ingredienti per la base. È facile perché basta miscelare tutto insieme. Partiamo dalle uova e dallo zucchero. Poi aggiungiamo l'olio, il latte, la farina, il lievito e la buccia d'arancia. Mettiamo in forno per circa 50 minuti a 180 gradi. Prepariamo la crema d'arancia con 150 g di zucchero, 2 cucchiai di farina, 3 arance da spremere. Misceliamo lo zucchero e la farina e poi il succo. Cuociamo a bagnomaria per non bruciarla. Quando sarà pronta? Quando risulterà addensata e non troppo liquida. Va preparata quando decidiamo di farcire la torta perché una volta raffreddata la crema tenderà a compattarsi. Conservata in frigo è uno sfizioso dessert da gustare insieme ad una tazza d'orzo.